Le rosse di Bagnara, oltre al servizio che da due o tre settimane stanno svolgendo per consegna farmaci e spesa a domicilio, hanno anche pensato di fare anche il servizio di carrello solidale, cioè di riempire il carrello di solidarietà. È un piccolo gesto che può fare la differenza e in questo momento aiutare le persone che realmente si trovano nella difficoltà anche di fare la sola spesa, per noi è un motivo anche di orgoglio. Questo servizio naturalmente verrà fatto nel rispetto totale della privacy di ognuno. Il servizio è stato così organizzato, abbiamo parlato con tutti i supermercati della cittadina che hanno tutti aderito all'iniziativa. Abbiamo messo un carrello e abbiamo spiegato alle persone quello che intendiamo fare. Già ad oggi abbiamo raccolto una grande quantità di alimenti che i ragazzi in questo momento stanno anche facendo lo stoccaggio dei vari alimenti che abbiamo ricevuto. Il servizio funzionerà nella massima trasparenza, abbiamo fatto dei fogli di carica e scarico dove generalmente verranno caricati tutti i prodotti che abbiamo ricevuto e contestualmente al momento che andremo a fare la consegna verrà fatto anche lo scarico. La consegna verrà fatta tramite una scheda personale di ogni cittadino che rimarrà solo negli uffici della Croce Rossa dove in questa scheda avremo nome, cognome, data di nascita della persona, il nucleo familiare per poter individuare il quantitativo di spesa che andremo a dare e quindi la retterremo solo per noi. Questo servizio naturalmente non sarà solo un servizio di questa settimana pasquale come magari qualcuno potrà pensare ma sarà nel tempo fin tanto che questa emergenza ancora durerà. Volevo anche precisare che comunque i nominativi delle persone a cui verrà consegnata la spesa ci sono stati dai parrici cittadini. Però volevo dire che chiunque ascolterà questo messaggio e si trova nelle difficoltà economiche di fare la spesa potrebbe anche telefonare in forma anche anonima perché sarà sicuramente rispettata la privacy della persona al numero 366 388 8493. Risponderanno gli operatori di Croce Rossa e nel assoluto, ripeto, assoluto rispetto della privacy di chi telefona.